ciao a tutti ragazzi è un tipo di rossi per me oggi andiamo a trattare su tutto un nuovo format per quanto riguarda la compravendita di plus bus.com per chi non lo sapesse pass punto com è un sito di compravendita dove si vanno acquistare delle carte e si andrà soprattutto a far profitto e guadagnare dei coins che poi potete riscaldare dei premi che aiuteranno il vostro canale youtube ma prima iniziare soprattutto a parlare di questo nuovo format vi invito sempre a iscrivervi al canale lasciare un like tenere la campanellina per stagione sui miei contenuti iniziamo subito con questo nuovo format questo nuovo format prevede il raggiungimento di un obiettivo che è quello di mille coins al raggiungimento di questo obiettivo il sottoscritto regalerà mille views al vostro canale quindi per chi ancora non è iscritto tutto in questo questo sito potrà iscriversi e andando su tutto accedendo tutto al link che sta qui sotto in descrizione e potete lasciare qui sotto un commento per farmi soprattutto sapere quale è il vostro canale youtube in modo che in un modo semplice dove io andrò sotto iscrivermi al vostro canale ma non ci perdiamo in chiacchia e andiamo subito a parlare di questo nuovo format il nuovo format quello di raggiungere mille coins quindi andrò oggi a dare soprattutto le carte consigliate a tutti voi per acquistarli in fretta e far subito profitto e guadagnare dei coins che è andrete a utilizzare per riscattare questi fantastici premi iniziamo subito a dare alcune carte consigliate le carte consigliate principali sono di napoli milan e inter e anche roma queste sono le principali carte consigliate qui andiamo a vedere soprattutto le carte consigliate per quanto riguarda questi match il milan gioco l'atalanta quindi come carte consigliate do mike magnan raffaele au e frank che si le altre scarte quanto riguarda il cagliere contro l'inter match cagliere contro l'inter sarà soprattutto lautaro martinez andiamo sul la categoria inter quindi sarà lautaro martinez consigliatissimo in questo match poi tra napoli il napoli gioca contro il genoa tra napoli e genoa io consiglio soprattutto osi man quindi come vedete qui la carta di osi man gold costa ben 110 coins e poi come altre partite dove consiglio soprattutto dei giocatori vi consiglio soprattutto del giocatore zaniolo e abram che giocheranno stasera contro venezia quindi andiamo sulla parola sulla categoria roma e vi faccio vedere tutte le carte questo è abram questo zaniolo non costano sta tanto ma come vedete qua 97 coins 96 coins quindi potete benissimo acquistare una carta di questa categoria oltre a queste carte vi consiglio anche halland che è gioca oggi contro l'erta berlino come vedete qui halland molto consigliatissimo in questa questa partita oltre a queste a questi giocatori vi consiglio come carte bonus la carta e manchester city come cosa sto parlando una carta bonus è può essere una carta di quanto riguarda un relativo una relativa squadra o può essere anche la carta di qualche competizione come europa league conference conference cup champions league come vedete qui nel regolamento ci se c'è tutto scritto file per segno quindi potete capire di cosa sto parlando come esempio la carta e quanto riguarda la relativa squadra si chiama team card bonus quindi se andiamo a parlare soprattutto il team card bonus questo tipo di carta ti fa guadagnare punti bonus al giocatore associato ogni ogni gol realizzato dal giocatore associato guadagni nel tuo budget 5 coins e 3 di valore prestazione il valore di prestazione è quello che noi andremo a prendere da da un sito chiamato ai score che darà ci darà soprattutto queste statistiche noi andremo a prendere soprattutto il valore di prestazione e andremo aggiunge soprattutto i gol che il relativo giocatore ha assegnato ma che succede questa carta bonus di della squadra insieme al giocatore vi fa guadagnare soprattutto 5 coins e 3 di valore di prestazione invece quanto riguarda i portieri per quanto riguarda attaccanti centrocampisti difensori guadagnerete 5 coins e più 3 di valore prestazione quanto riguarda i portieri guadagni 5 coins se il partire se il portiere subisce meno di 2 gol e 3 di valore prestazione se acquisterete solo la carta per quanto riguarda il club quindi senza il giocatore associato con questa carta guadagni 4 coins a ogni gol realizzato per esempio se il manchester si fa 4 gol e voi avete solo la carta per quanto riguarda la squadra manchester si andrete a guadagnare basta fare 4 per 4 gol segnato e andrete guadagnare questi coins attraverso i gol segnati quindi questo è quanto riguarda la carta del team quanto riguarda la carta della squadra relativa quanto riguarda i giocatori vi ho dato tutto le carte consigliate quindi vi mando un grosso abbraccio al vostro perfetto gamer ci vediamo al prossimo video e in bocca al lupo a tutti quanti vi raccomando iscrivete al canale c'è un like la campanella stagione dei suoi contenuti e lasciare qui sotto un commento in modo di facilizzare soprattutto l'iscrizione la mia iscrizione al vostro canale e lascerò soprattutto un commento in un relativo video che avete al all'interno del vostro canale in modo da farvi capire che mi sono iscritto e che ho fatto l'iscrizione buona con una visualizzazione completa vi mando un grosso abbraccio bella